ah sto ascoltando il podcast di viva la dislessia tu l'hai ascoltato se non l'hai ancora ascoltato c'è solo un motivo anzi due uno non hai un iphone che ti renderebbe semplice la vita però bene ci passiamo sopra se hai un android è un altro problema ma la realtà che l'unico motivo per cui non hai ancora potuto ascoltare il nostro podcast che è meraviglioso e divertentissimo e che magari non hai ancora gli strumenti per riuscire a scaricarlo quindi in questo video con un grandissimo atto di bontà ho deciso di farvi un breve tutorial per farti vedere come scaricare il nostro podcast direttamente sul tuo cellulare la prima cosa che magari uno non ha ancora ben capito è che cos'è un podcast perché è una delle prime domande che mi fanno è una parolona inglese che ti spiega che è come ascoltare un programma alla radio non in diretta quindi indifferita sul tuo telefono in questo caso i dj i conduttori siamo io Paola e Valentina e parleremo di tutto quello che è il mondo viva la dislessia dai conti alla scuola e la cosa bella è che sono delle nostre chiacchierate a tre attraverso le quali parliamo del nostro lavoro e della nostra idea soprattutto di dislessia ecco che questo è il podcast parola difficilissima per dire mi ascolto tre persone che parlano adesso andiamo a vedere come funziona per chi ha un iphone quindi la prima cosa è se non è un iphone vai a comprarlo nel momento in cui invece ce l'hai ti troverai di fronte lo schermo del tuo cellulare questa cosina qui viola con scritto podcast è un'app che direttamente il tuo iphone dovrebbe avere installata se per caso non ce l'hai ti basterà andare qui su app store e riscaricarla tanto è gratis quindi prima cosa da fare è premere col tuo ditino qui dentro e andare su cerca quando vai su cerca scrivi viva la dislessia il podcast ti emergerà questa cosa questa schermata tu premi premerai su iscriviti finito finiti i problemi la cosa più importante poi è che dovrei premere qui sulla nuvoletta per scaricarti gli episodi come vedi qua cominceranno a scaricarsi vedi che c'è quel cerchio che si sta riempiendo se li vuoi scaricare li puoi scaricare anche tutti e tre perché ci sono tre episodi perché il podcast è uscito già da tre settimane e ogni settimana pubblicheremo una nuova puntata se avrai premuto qui su iscriviti semplicemente ti basterà ogni settimana andare poi a rivederti l'episodio se è stato pubblicato ma verrà sempre pubblicato ti aggiungo anche che se hai voglia di farci una recensione ti basterà andare qui premere su recensioni e premere qui con scritto scrivi recensione e potrai mettere le tue cinque stelline e anche il commento ok? questo per l'icon se invece sei una persona un po' più sfortunata ovviamente sto scherzando e hai un sistema android il lavoro è un briciolo più lungo ma è semplicissimo quindi dovrai andare sul tuo play store che è dove ti scarichi i programmini premi qui col tuo ditino su play store si aprirà google play a quel punto qua sopra scrivi podcast guarda ti viene anche fuori addict premi e poi devi fare questa cosa difficilissima che è installa poi ti dirà che richiede l'accesso a tu accetti e ora comincia a scaricare questa app che sarà l'app che ti consentirà di vedere il nostro podcast con grandissima facilità nel momento in cui l'avrai installata ovviamente dipende dalla velocità di rete che hai quindi aspettiamo un secondo che si faccia l'installazione ok premi apri collegamento podcast qua te ne freghi di quello che è scritto qui devi premere su questa crocetta qui più poi vai su motore di ricerca in alto a sinistra togli via filtra lingua che non ce ne frega usa il motore di ricerca itunes e scrivi cosa scriverai mai? viva la dislessia cerca oh guarda caso ti troverai il nostro podcast premi ti dice che ci sono già i tre episodi e fai questa cosa difficilissima che è iscriviti dopodiché premi sui tre episodi li avrai qua stessa procedura te li scarichi ti dici sì te li scarichi sul tuo telefono il gioco è fatto anche con un cellulare con un motore android semplicissimo come hai visto è semplicissimo quello che devi fare adesso è prendere play ed ascoltarti la tua puntata buon ascolto ciao a tutti ciao a tutti